Una matematica americana di origine iraniana, Mariam Mirzakhani, è diventata la prima donna al mondo ad essere insegnita del più prestigioso riconoscimento in matematica, la medaglia Fields. Professore all'Università di Stanford in California, Mirzakhani è nata nel 77 a Tehran, è specialista della geometria di figure inusuali e ha scoperto nuovi metodi per calcolare il volume degli oggetti con superfici iperboliche, come ad esempio la sella del cavallo. La medaglia Fields rappresenta una sorta di Nobel augurale della matematica poiché viene attribuita ogni 4 anni solo a studiosi sotto i 40 anni.